Sì 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 Siamo tornati su FIFA E abbiamo già fatto vedere a tutti chi comanda Animali e animale Spacchiamo il tasto del mi piace Almeno 100.000 mi piace Per questo video Il ritorno su FIFA più e più che mai Buona visione Oh mio dio Oh mio dio Oh bella raga Sono tornato Con questo nuovo FIFA Sascha Murci Anima Si vola Bentornati in questo nuovissimo video Siamo tornati dopo tantissimissimo Tantissimissimo tempo Su FIFA Come potete vedere ho preso FIFA 18 Questo vuol dire tantissime cose E per celebrare questo grandissimo ritorno Guardate che maglietta indosso Per tutte le persone che mi seguono da vera da tantissimo tempo Questa è stata una maglietta che mi ha accompagnato In tutti FIFA che ho giocato Quale grande onore rindossarla Siamo sotto Halloween Ci sono un sacco di carte fighi da trovare Cioè FIFA devi pagare il pegno In tutte le carte che non ho trovato in questi anni Che non ho giocato molto Comunque benvenuti nel primissimo E ufficiale pack opening Di FIFA 18 Quest'anno FIFA lo volevo strutturare un po' In modo diverso dagli altri anni Faremo un pack opening Ciò che troveremo nel pack opening di Figo Lo utilizzeremo nell'episodio dopo Giocando appunto le partite Successivamente un altro pack opening Poi partite in base a cosa troveremo Così sfrutteremo tutte le carte che troveremo nel pack opening E le giocheremo Tutti invece i crediti messi da parte Li userò Per comprarmi i giocatori E tornare a sfidare i Joker Nei search and discard Avete sentito bene Detto questo animale animale Non perdere altro tempo Perché qua abbiamo una squadra della settimana Tutta da trovare Che poi non troveremo un cazzo nessuno Ma sono dettagli Oggi dobbiamo fare come lui Ci dobbiamo mettere le mani nei capelli Puntare sul dito e sperare in Gesù Che ci porti fortuna Ed essere forti come dei campioni Squadretta non male comunque E andiamo di pacchetti Andiamo un po' a vedere Se non sbaglio Dovrebbero esserci ancora Gli screen pack O come si chiamavano insomma Legate ad Halloween E ci sono anche i pacchetti promo Buono Sto facendo questo video alle 18.45 Così fra un quarto d'ora esatto Esatto 14 minuti 26 Dovrebbero riaggiornarsi forse altri pacchetti Per fare un pack opening veramente figo Animale animale Primo pacchetto di FIFA 18 Alzo le mani Chiudo i piedi Mi spacco una gamba E non c'è dentro una fava di niente Un oro non raro Ti prendo e ti rimetto dentro il pacchetto E ti rimando a fanculo in Messico Era chiaro che non avremmo trovato niente di buono Però tutto fa buon brodo come si dice Nel senso i crediti comunque ci servono Questi li bandiamo via tutti Invece i contratti li teniamo che ci servono Facciamo una bella cosa Visto che quello era il primo pacchetto Adesso li schippiamo Io non ho ancora ben capito Forse bisogna vedere che a metà come un ringo brillano Ecco tipo questo non ha brillato Non ha brillato ma c'è un oro raro dentro Però non Se non tipo Come tipo il ringo che se non brilla al centro non esce la roba figa Vabbè Gli oro rari li vendiamo e tutto il resto Non è la spazzatura Oh mille crediti Ottimo direi C'è o non c'è qualcosa di buono in questi pacchetti che scadono fra poco Dai brilla non ha brillato lo schippiamo La tua faccia quando apri un pacchetto di halloween ma il pacchetto non brilla E sono altri soldi va bene Per me va benissimo Ambaravaciccoco il bagliore dello Do C'è ragazzi fermi Dammelo un po' No non ha tantatreghe Portogal Pepe Chi è Pepe Sale Pepe baby 86 walk out Walk out Walk out Walk out Il primo dopo tre pacchetti L'86 Pepe E iniziamo a far esplodere un po' tutto in sta camera Ma vi immaginate se facessero la mia di carta Che arrivo in scivolata spacco otto piatti Vola una sedia Mamma mia E speriamo almeno che con un walk out del genere qualcosa valga ragazzi eh Animali animale quest'anno se supportate fifa e lasciate un botto di mi piace Un botto di roba di condivisioni Facciamo il delirio Andiamo un po' a vedere Vabbè comunque è un 86 Siamo su comunque i 19.000 crediti Buono Un bel maloppino qua per Pepe via Ho sentito dire da altri youtuber tipo Joker che quest'anno Vabbè lui c'ha un culo da una capanna Che quest'anno vedo che fifa allunga un pochettino di più il braccio con le carte buone Quindi io spero che non sia una leggenda metropolitana ma che sia una cosa giusta Tante carte comunque Nacho il creatore dei nachos E tra l'altro abbiamo una squadra inglese quindi io guardate questo lo tengo Saluta no questo lo mettiamo nel team Mamma mia ragazzi ho iniziato a registrare fifa Sto perdendo un polmone il cuore c'è troppo caldo in sta stanza Splendi amore mio splendi pacchetto del cazzo Spacchetto non fa niente Un Sanchez starocco pelato c'è il 90 if Grazie per il doppione di stemma della Romania Mi mancava veramente Faccio una collezione là dietro Quattro minuti quattro pacchetti Andiamo avanti dai Non puoi prostrarti così a me Con ganso Ma fai poco il ganso che dà uno schiafo d'ammazzo Vala 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 Tutti nella battumiera Un altro stemma della Romania Mi ascolta veramente Ho detto che faccio la collezione Non la faccio la collezione Faccio la collezione degli if Collezione degli if Dov'è il microfono che mi ascoltano 3 pacchetti 3 minuti e 45 Andiamo Galoppami addosso Galoppami pacchetto Fammi vedere che esiste si 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 Fermi tutti Fermi tutti Qualcosa Francia e va bene Difensore Chi è? Chi è? Ha fatto tardi all'appuntamento Questo non si è presentato Quando è walk out Quando esce questo è retard out Nel senso che è in ritardo e non esce mai Perrin 83 Che nei miei occhi vedo I soldi I crediti Due pacchetti 2 minuti Andiamo avanti dai così Un pacchetto per minuto E ci togliamo ogni sfizzo Dai un altro Su Perrin non si è presentato Un altro che Eccolo Bella Porcona Tira fuori sto pacchetto buono Brasile L'attacco E che cazzo sei un altro retard out Questo cazzo Dai esci Perché non è sconosciuto Sono Pepe Cioè lui esce sempre perché Entra nelle caviglie E esce dai pacchetti capito Sempre un ente C'è sempre un usciere Un e che entra Poi non è neanche capito come si chiamano Quali leggende Si chiamano icon icon icone Non lo so Ha cambiato tutto Ma lo dovete scrivere nei commenti Aiuto Mettiamolo sul mercato Trasferimenti Vale qualcosa signor No 1.600 1.600 1.600 1.600 Madonna raga quanto son gasato Come mi è mancato Mancano 58 secondi Ultimo pacchetto E me ne hai dato 1 E da me il 2 E il terzo è il numero fortunato Dai Puh 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 Sgancio Me lo si tratta di fila Sai che me ne ha detto che non son venuti Vai Tiralo fuori sto coso forte 80 Che età Perché non esco Cioè ha la sua età Che età E' normale Che si presentava Con il bastone della vecchiaia Non vorrei fosse che Magari perché il peper era più alto Era tipo 86 Usciva gli altri che erano 83 Non usciva Non lo so vabbè Si vergognano di aver preso una valutazione un po' più bassa Nasce o vega pure questo Ovviamente parlo sempre come prezzo Poi magari è una belva sovraumana E l'ho detto ragazzi L'ho detto L'ho detto Che erano le 7 spaccate E hanno messo il pacchetto da 45.000 Mamma mia E' il nostro momento Andiamoci ad aprire il primo pacchetto giocatore Oro Prime Guardate Non c'ho neanche i crediti per poterne aprire uno Quindi potete capire che Non ci può prendere per il culo FIFA Signori e signori Ammi il pacchetto Apriamo le danze Scendi giù E non è La luce Che se sono dimentica di pagare l'Enel La luce Palotelli Ciuccia Piselli Vai a cagare E vai saccoccia Mangia E vai Vai così si Che l'ha tirato a fuori Vedi? Bisogna incazzarsi Bisogna Non di no No di no No di no di prima BASTA Ecco perché non mi hanno ancora sbattuto fuori di casa Perché non stavo facendo i pack open Ma voglia Lo vedi ci sono le carte di halloween 89 osil Benzema 87 Dove sono? Ultimi due pacchetti Prendo il piatto E questo decide Cacchio Cacchio E tu quattro slot Matteo Ultimo pacchetto Ultimo pacchetto Che puzzo Bruno Ultimo pacchetto Sganci Salà Salà 83 Che è fortissimo tra l'altro Mi ho aspettato le sette di sera per fare questo video Avete capito? Vabbè Ne abbiamo altri cinque Eeeh Niente Eeeh E niente Eeeh 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 Oh 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 Neanche un F Ti prego almeno feco Morata 84 Nei pacchetti più scrivuti ho trovato una carta più alta di valutazione Che cosa vi devo dire? 7700 fina points Andiamo come i treni Abbiamo questi pacchetti che sono illimitati Speriamo che almeno un pacchetto non sia fake Oh E dai Finalmente Oh Sì Sì Dammelo a mano Oh mio Dio che è Cessi Sì No Sì No Sì va bene lo stesso Ah Cazzo sì Un altro non ci aveva voglia di uscire Esco io Il posto tu BOOM BASHU SHASHI SHASHABURSHI E io l'ho detto che ci saremmo messi le mani nei capelli all'inizio video BASHUASHI Ed è pure nella Premier League Quindi a meno che non troveremo nessun altro IF faremo una bella Premier League nella prima partita Vediamo quanto vale il gioiellino Leggo un 200mila lì Che bello 50mila crediti Ma che benessone Mamma mia finalmente è uscita la carta nei pacchetti di marci Madonna ragazzo ne fuori come una pigna Ho posto un campo minato fino a pezzi di roba Per ora un ritorno su FIFA molto molto buono Va bene raga fermi tutti Un'altra da Spagna Portiere E tu madre Ultimamente 4 a 1 a Sensio No non credo sia quello Altri soldi per me E intanto signori tocchiamo la soglia dei 100.000 crediti Dai Surry 2 Dov'è che sto Ronaldo si nasconde E quando ormai mancavano soltanto mille FIFA Points E la mia faccia Era molto delusa e triste Successe questo Sì Oh mio Dio Cosa Oh mio Dio 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 Chi cazzo è Oh mio Dio Oh mio giocatore fuori classe Che cazzo è una leggenda Non lo so io Non ho mai trovato una leggenda raga no Oh mio Dio non me l'aspettavo No 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 devo scrivere al Joker Sì ma ma cosa è sta roba Una leggenda Unico Cosa c'è un'icona Non so le carte Ho trovato nel pack opening Saluto a tutti Madonna qui ho un campo minato Bisogna stare attento Ho spaccato tutti i piatti insieme No raga Tutti lo mettono a 400.000 crediti Oh mio Dio Qui abbiamo rotto il gioco Qua abbiamo rotto il gioco Lo metto nella prossima partita sto qua Subito al club Vabbè animali animali Io direi che questo primissimo pack opening di prima 18 può concludersi qua Io non ho assolutamente parole di come sia andato Siamo partiti con i pacchetti belli Non abbiamo trovato nessuno E i pacchetti scrausi roba strafega Lo dice anche il gioco BASTA Lev Yashin Portiere Primo proprietario Aspettatevi sicuramente una partita con lui E l'altro if che abbiamo trovato con una squadra tutta l'intesa Grazie per essere arrivati fin qua Davvero siete i migliori Dobbiamo spaccare di mi piace per il prossimo video di FIVA Lasciatelo tutti A me non resta altro che salutarvi Vi piace di iscrivervi al centro Guarderai altri miei due bellissimi video ai lati E noi ci si becca Ad un prossimo video di FIVA STAY ANGRY STAY ANIMALS Ma come hai trovato nel pack opening? Ma che sei a di? Da in segreto Cioè ma appena hai preso FIVA Già sei già trovato un'icona E qua sei leggendario eh Da in segreto